Rocky Bull è il titolo dell'opera itinerante del maestro Salvador Gaudenti, posizionata in piazza Bilotti a Cosenza, dove resterà per un mese. L'opera rappresenta il risveglio del toro, simbolo della Magna Grecia, dopo un sonno millenario. Io ho voluto dare una linea moderna, immaginando quello che poteva essere il risveglio del toro, dopo 2500 anni. E ci ritrova in una terra dove ha dimenticato la sua grandezza. Ecco, lui si risveglia e ci comunica a tutti quanti noi, calabresi, meridionali, che dobbiamo tornare ad essere quello che eravamo una volta. Potenti, ricchi, culturalmente forti, c'era l'abbondanza. Quindi questo è il compito di Rocky, portare in giro il desiderio di tornare ad essere culturalmente forti e naturalmente riscoprire quelle che sono le nostre capacità, le nostre qualità, che siamo veramente grandi. Il toro è un simbolo benaugurante per tutta la Calabria in un momento di difficoltà. Oggi abbiamo bisogno più che mai di un simbolo benaugurante, ma questa è anche un'opera molto bella del maestro Gaudenti e devo dire che sta molto bene anche qui nella nostra città, che ha sempre accolto opere d'arte, soprattutto col Mab, adesso che sarà arricchito ulteriormente di altre decine di sculture che abbiamo già predisposto l'installazione, è una città cosiddetta fabbrica creativa, soprattutto negli ultimi anni, una città opera d'arte, come l'abbiamo chiamata, e pensiamo che in un ambiente circondato dalla bellezza, dalla creatività, dove c'è la creatività c'è sempre anche l'innovazione, c'è la crescita di una comunità. L'opera d'arte di per sé è già un modo di avvicinare le persone, quindi noi in questi anni abbiamo voluto ribadire con vorsa sul nostro territorio, abbiamo creato più volte le occasioni, ricordo che siamo stati premiati anche come città innovativa nel campo della produzione culturale, con l'iniziativa dei box art, delle residenze degli artisti e del museo, delle residenze, che è una sorta di museo vivente, dove gli artisti contemporanei vengono, lasciano un'opera d'arte alla città e sono opere d'arte ispirate al nostro territorio.